E' tutto pronto per il gran finale della quarta edizione di Jazz on the Corner, che ha già riscosso il buon successo di critiche pubblico nelle serate della stagione estiva. La Kermes, che si inserisce all'interno della rassegna Orgiastica Aurora, porterà in città per l'evento conclusivo giovedì 22 luglio in piazza Sant'Agostino DOS, il progetto etereo e raffinato del duo formato dal contrabassista Enzo Pietropaoli e dalla cantante Eleonora Bianchini. L'ultima sera avremo l'onore di avere con noi Enzo Pietropaoli, che è uno dei contrabassisti più importanti d'Italia, con il suo progetto DOS che condivide con Eleonora Bianchini alla Voce. Quindi diciamo un programma variegato per queste tre serate di Jazz on the Corner. Sempre con grande difficoltà si organizza queste cose? Sì, assolutamente, si organizzano con grande difficoltà, però quando si vede una platea piena di pubblico interessato veniamo ripagati degli sforzi che facciamo. Anche perché comunque sia tutte queste serate sono a ingresso gratuito, quindi noi ci teniamo proprio che la cittadinanza non si perda queste occasioni, perché sono proprio delle occasioni da non perdere direi. Grazie a tutti!